Credo che noi siamo in involuzione per quello che abbiamo dimostrato questa sera, specialmente non tanto all'inizio perché eravamo partiti anche benino, ma dopo il gol dell'Atalanta sembrava una squadra disunita, la paura di giocare anche una palla a 5 metri. E siamo mancati proprio anche in personalità, nel desiderio di andare a riprendere questa partita. Poi abbiamo fatto tutto un po' sporadicamente, e non da squadra, da collettivo come abbiamo dimostrato di essere in passato. Però adesso bisogna stare solo zitti, sia in Cudine, bisogna continuare a lavorare, cercare di andare a riprendere, secondo me l'aspetto più che fisico-mentale di questa squadra, perché poi alla fine si fa parlare di aspetto fisico, quando alla fine se si corre male o se non si corre insieme, poi si fa fatica. E noi in questo momento stiamo correndo poco insieme, e poco collettivo, paradossalmente lo siamo diventati presto e adesso un pochino di scollamento c'è. Io sono l'allenatore, sono il primo responsabile e devo andare a individuare questo aspetto prima possibile per ritrovare la squadra che ci ha dato, non dico questo mese, ma prima, grandi soddisfazioni.